Vi faccio vedere un trucchettino per chi non lo conoscesse, è uno spawn pick Praticamente uso l'attaccante così vi faccio capire, lo spawn è qua Quando arrivi qua dai sempre un'occhiata Dai un'occhiata subito a questa finestra Subito a questa E qua mori Vedete come faccio a morire, se questa è chiusa e questa è chiusa Vi faccio vedere Ora fate finta che io sia un difensore Fa ridere il fucile di Twitch Fa ridere, non spacca le finestre, vabbè Ci posizioniamo In questo punto Fateci caso C'è del legno Del giallo Gialle mattonelle E il muro Poi mettete magari colpo singolo con il Dock Con il Rook Adesso con Twitch purtroppo No va ce l'ho Twitch sbarra molto di più del Rook e il Dock Andiamo a vedere cosa sto colpendo Andiamo a vedere Proprio un trattino giallo voi dovete Guardate Questa che zona è? Quando uno arriva Guarda la finestra Guarda l'altra Sei morto Guardate La visuale Se proprio ti metti qua a filo riesci a individuare un po' d'aria Ma veramente poco Guardate Andiamo a vedere se è entrato il colpo là Vabbè Sicuramente entrato Va bene Basta Ciao ciao